Il filosofo Diego Fusaro e la verginità. Ripeto, il filosofo Diego Fusaro e la verginità. Perché leggo sul pregiato web journal, Huffington Post, una notizia che riguarda il filosofo Diego Fusaro, che io apprezzo molto e che sia chiaro, in questa notizia viene intervistata la fidanzata di Diego Fusaro, che è una bella ragazza. La fidanzata di Diego Fusaro vive con Diego Fusaro, diciamo così, more uxorio, però la fidanzata di Diego Fusaro, del filosofo Diego Fusaro, dice che non fanno le more, non fanno le more, lei dice di essere ancora vergine perché non fanno le more. Dice lei, il filosofo Diego Fusaro legge Hegel, dalla mattina alla sera legge le opere di Hegel, Diego Fusaro ama Marx ed Hegel. Allora ci sono state tante relazioni su questa faccenda che la fidanzata del filosofo Diego Fusaro e vivono insieme more uxorio, dice che non fanno le more, lei è ancora vergine, tante relazioni ci sono state. Io qua mi limito a considerare che il filosofo Diego Fusaro è portatore di valori forti, valori forti, i valori forti sono Dio, patria e famiglia, c'è anche il sovranismo, la livetta e via di seguito. Se uno è portatore di valori forti, ah beh, devo dire che il filosofo Hegel, tanto amato da Diego Fusaro, il filosofo Hegel diceva che quando un uomo ha una moglie e un posto fisso ha raggiunto l'assoluto, capito? Ho questi valori forti, la mogliettina è il posto fisso, Dio, padre e famiglia. Allora c'erano tante relazioni, no, no, per me è tutto normale, tutto normale che la fidanzata di Diego Fusaro sia ancora vergine, ovviamente d'accordo con il suo fidanzato Diego Fusaro, rientra nella tradizione, nella tradizione, la tradizione voleva che il fidanzato e la fidanzata andassero in chiesa a sposarsi e quando lei era ancora vergine, poi la prima notte di matrimonio avveniva lo sverginamento, cioè la rottura del limene, 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 limene è quella membrana, quella membrana che protegge la virginità, avvenivano la lacerazione del limene, c'era la fuoriuscita di un po' di sangue, il marichino fresco con un fazzoletto asciugava, asciugava, asciugava sangue, poi si accacciava alla finestra e lì sotto uscerono tutti gli amici e faceva vedere il fazzoletto, il fazzoletto insanguinato come prova che la mogliettina era proprio vergine, questi erano i valori forti e io li difendo questi valori forti perché dico sempre alle brave girls di non darla via, di non darla via perché la virginità ha un grande valore, ha un grande valore, dico alle che è vero, date via tante altre cose, date via tante altre cose, avete le manine, avete la bocca, poi non si scusi avete pure il sederino, ma non date via la virginità perché la virginità ce l'avete una volta sola, la virginità la date via soltanto se uno vi sposa, solo se uno li compra un bel appartamento ben arredato perché ce l'avete una sola volta la virginità, capito? Allora io sono d'accordo con il filosofo Diego Fusaro e con la sua fidanzata, ok? Si tratta di valori forti, di valori forti, Dio, patria e famiglia e poi sovranismo, sovranismo e cioè ritorno alla riretta, alla riretta, alla riretta noi abbiamo dedicato due canzoni, una alla fine dell'Ottocento che diceva mamma dammi cento lire che in America voglio andare perché alla fine dell'Ottocento gli italiani volevano andare a fare i turisti in America e dicevano mamma dammi cento lire che in America voglio andare, poi ai tempi del ventennio c'era un'altra canzone che diceva ah, se avessi mille lire al mese mi farei subito una bella mogliettina e una bella casita, quindi ha ragione Diego Fusaro ad essere un sovranista, cioè la riretta perché alla riretta sono state già dedicate due canzoni, invece non c'era l'euro neanche una canzone, capito? Ecco, queste sono le mie considerazioni su questa notizia che riguarda il filosofo Diego Fusaro perché anch'io sono un filosofo, vedete? Anch'io sono un filosofo, vedete? Questa è la mia storia della filosofia, un po' stoico, un po' cinico e tantissimo gnostica, 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 ok cari amici a Diego Fusaro, alla sua fidanzatina e a tutti voi, tanti cari amici e Serafino Massoni che sta sempre qua al bar Malù della Galbatella e la Galbatella è un...